Verso il Carnevale 2023, tra le sei associazioni che partecipano a questa edizione del Carnevale, oggi conosciamola Saranno Famosi, che al Carnevale 2023 è presente il carro allegorico The Show Must Go On. Incontriamo il vicepresidente e poi tanti altri componenti dell'associazione. Luciano Leone, verso il Carnevale, ormai ci siamo, è alle porte questa nuova edizione, voi ci siete anche quest'anno con il carro The Show Must Go On, parliamo dell'allegoria. Hai detto bene tu il titolo, lo traduciamo in italiano, significa che lo spettacolo deve andare avanti, quindi nonostante tutto quello che ci è capitato negli ultimi anni, il covid eccetera eccetera, la guerra attuale, dobbiamo andare avanti, anche questo Carnevale che ritorna, quindi ben venga la pochitività di tutto quello che vogliamo dire, quindi poi dietro abbiamo l'Araba che ci porta questa ventata di lato pochitivo, quindi che ricogge le proprie ceneri e quindi andiamo avanti. Ho chiesto ai suoi colleghi cosa hanno rappresentato questi anni senza Carnevale per voi? Vabbè il Carnevale, a Sciacca purtroppo il Carnevale che manca è un fatto, non si può stare senza Carnevale, quindi perché noi il Carnevale tutti credo i sciacchitani ce l'hanno nel sangue e noi possiamo fare secondo me a meno, anche a livello principalmente economico e culturale, perché fa bene alla città, fa bene un po' a tutti noi. Dello spostamento di location, cosa pensate, qual è il vostro umore? Quello che sicuramente è inconfutabile è che le strutture sono state realizzate per rispettare misure per il centro storico. Sì, è indubbio che ci siamo preparati per farlo in centro storico, ma nulla toglie, speriamo che questa nuova location magari ci troviamo pure bene, sicuramente c'è una cosa nuova, un'innovazione che va approvata, ma secondo me anche lì va bene come posto e devo dire che ammirà di più il nostro mare, che è meraviglioso. Ci sono tantissime persone questa sera qui con voi, lei ha tra le braccia suo nipote, che cosa rappresenta per loro averli qui e che cosa è stato il Carnevale mancato in questi anni per loro piccoli? Sicuramente il mio nipote ha un'età che due anni fa non capiva molto, ora magari lo capisce ancora di più, lui ci sta divertendo. Vedo che tutti i bambini si divertono al Carnevale, perché il Carnevale è fatto principalmente per loro, quindi è come il futuro. Per noi magari sì, sentiamo la mancanza, perché da tanti anni non lo facciamo, però per loro è un fatto importantissimo. Che Carnevale pensa si stia avvicinando? Io credo che sarà un bel Carnevale, speriamo che il tempo ci accompagna, perché sai, il Carnevale purtroppo noi fino ad oggi, che in Carapannoni siamo subordinati al fatto del tempo, però io credo che il Maggio porterà bene, dai, spero in una ripartenza positiva, è importante da ripartire, perché non poteva più stare fermo. Magari poi fra un anno tornerà a febbraio, però intanto facciamo questo Carnevale che ci voleva.